Al Policlinico di Bari si è tenuto venerdì un convegno sulla Domino Agopuntura, patrocinato dall'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese. Un'occasione per mettere a confronto la medicina scientifica occidentale basata sul criterio causa-effetto e quella cinese basata sul criterio analogico. Due strade solo in apparenza inconciliabili, che si vanno anzi sempre più integrando alla luce delle conoscenze che derivano dalla meccanica quantistica. L'obiettivo comune è la salute a 360 gradi. L'agopuntura cinese è la più antica medicina dell'umanità, sviluppatasi per millenni parallelamente alla scienza medica occidentale. Una medicina che considera la salute come uno stato di benessere psicologico oltre che fisico, e il cui giovamento è provato in campo analgesico e antiflogistico nelle patologie croniche e nell'apnei, psico, neuro, endocrino, immunologia.